Questa sera un ciglio in acciaio inossidabile, la prima corda è un arsene media, dovrebbe essere più dolce della precedente argan rossa. La prima corda è stata un' arsene media, dovrebbe essere più dolce della precedente argan rossa. La prima corda è stata un' arsene media, dovrebbe essere più dolce della precedente argan rossa. La prima corda è stata un' arsene media, dovrebbe essere più dolce della precedente argan rossa. La prima corda è stata un' arsene media, dovrebbe essere più dolce della precedente argan rossa. La prima corda è stata un' arsene media, dovrebbe essere più dolce della precedente argan rossa.